E' morta sul colpo Chiara Rosati di 20 anni di Cantiano dopo che la sua Opel Agila si è schiantata contro un albero ai margini della strada provinciale 50 all'altezza del campo sportivo tra Cagli e Cantiano. Sono le 5 della mattina Chiara assieme ad altri tre suoi amici coetanei due ragazze ed un ragazzo alla guida della sua auto sta rientrando dopo una festa di compleanno. Per motivi ancora in via di accertamento da parte della polizia stradale di Cagli intervenuta sul posto in maniera autonoma perde il controllo della vettura e dopo una carambola su se stessa urta violentemente la pianta. I sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso della ventenne e trasportare gli altri tre amici all'ospedale di Urbino per i traumi subiti nell'urto e dove si trovano tuttora recuperati ma non in pericolo di vita. Grazie. Grazie.